Sì, il Partito Democratico di San Giovanni Valdarno ha organizzato per questa sera un'iniziativa centrata sui sistemi sanitari gelettivi a Valdarno. Sono presenti l'assessore regionale Stefano Saccardi e l'assessore generale dell'azienda della Passa Sud-Est e dei due desideri. Con loro affronteremo diversi temi e diversi nodi, dai seguiti sanitari di qualità del nostro perale Valdarno, alla sanità territoriali, al tema delle liste di attesa, fino ai nuovi assetti che le leggi regionali negli ultimi anni hanno determinato anche sul nostro territorio. Quindi sia la legge regionale che ha ridefinito nelle basse, sia l'ultima che è trovata in Consiglio di San Giovanni la settimana fa sulle nuove zone restritte.